Wei raga, allora oggi si parla di studio, finalmente abbiamo trovato un nuovo studio e ben insieme ai lavori di ristrutturazione Adesso siccome siamo un po' più avanti, iniziamo a farvi vedere qualcosa Dove abbiamo tenuto la roba, questo è quello che ci ha tenuto la roba Guarda che si vergogna, scappa Adesso la prendiamo e la portiamo Ci abbiamo portato un po' di roba Facciamo vedere il trasporto di qualcosa Betolivari Ora possiamo mettere da lato per un anno O buttare Già abbiamo messo un po' di roba Fantastico Niente abbiamo finito Betolivari, stralogie Ora dobbiamo andare a prendere le scatole da me E si parte Che poi tra l'altro è anche il video del mese di gennaio Bene raga Come esce in video, bellino vero? Simpatico, ancora è tutto distruttore Non è dritto il video Non è dritto il video Dai Torniamo i vetri adesso Andiamo a casa Stiamo andando a casa mia a prendere le altre cose Ci sono il tipo che parliamo Sì, andiamo tutti insieme Ok Alberto, dai Finiste di raggiare Ok Abbiamo preso le ultime cose E le stiamo portando al nuovo studio Esatto Ok Questa è quasi Deve me la pagina Deve me la pagina E' inzicata Che forte Ah rompio Niente 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 Il ricordino di Roma Si deve incollare No Ci sono quelle degli angoli Che mancano Beh Un, due, tre, quattro Quattro Quelle per fuori Poi mancheranno Mancano dal sotto Perché si fanno Un secondo momento Sotto Fai che fare Fai due volte Così è così Fai due volte Prima mi Non stavo Siamo Questa La propria Poi 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 Inizia a mettere Quelli Le luci che abbiamo Dove sono C'è un problema Dove dovevi abbondare col filo Dopo lo scotch non hai abbondato Io non me lo ricordo qual è il burro Ma hai provato Asciugo c'era In una data Sì Ce l'intosca Perché è da natale Perché ho bevuto l'acqua Ma mi fanno E' un due gatto E' un piccino Se lo vuoi spostare Lo sposti I gali non volano Quando Non so Che devo fare No Come L'abbiamo incollato Non siamo scemi Al contrario Che cosa pure laterale Dobbiamo mettere C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è un'altra C'è Vai Apriamo seriamente Non farei finta Che sei serio Nel lavoro Però se guardate Il mio Tiktok Lo vedete Ciao Ciao Alberto Ciao Dove hai mettere questa Aspetta L'abbia 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 Non fare Fin dei megabisc Fai di fare A lui No Forca puttana Non vedi che c'era l'ordia Si sprechi Si sprechi Non sai Fai un cazzo È prima No Quello 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 Che lo passo Devi cambiare il mollo Perché Perché non fai Perché non fai Perché non fai Perché non fai Che non fai Che non fai Che non fai Che è l'altra molla che hai Ah la molla Questa è la molla Il lato della molla Si deve cambiare Non la molla Qua Questo è il portafoglio Qua Guarda 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 Perfetto Così si è carino Zicca Che ragazzi Siamo qui Che stiamo facendo L'impianto Al nostro Nosto Vi faccio fare Un piccolo tour Pronti Via Entra di là Ed esce Eccola Ma le cose Perché non te le metto in tasca Albert Perché me le scorpo No Non l'ho presa Questa battuta Mi dispiace Non l'ho detto Non l'ho detto Così Non l'ho Non l'ho detto Non l'ho detto Non l'ho detto Aspetta 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 Mi fa tirare Lo scorri filo Lo scorri filo Mi fa tirare E poi mi piace Lo scorri filo No Ma vabbè Ci penso Dico Mio appendici Che mi ha detto La sola Oh yeah Questo è un paio Di pimp 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 Vai 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 Vieni Arriva Ma se c'è un filo di merda Ma se tu dici Quando io non ti spingo Guarda che una merda il filo Sprevi più di scotch E di altro S'è fatta notte Fuori già buio E noi ancora lavoriamo Di più lui Io gioco Stiamo abbastanza veloci Direi A fare l'impianto elettrico A parte qualche cazzatina Però vabbè Se avete bisogno Di un impianto elettrico Chiamate Alberto Allora 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 Ti faccio un sorriso Rifacciamo Se avete bisogno Di un impianto elettrico Chiamate Alberto Ti muoio Ambuto il tuo gimento dolore Chieco vai perca puttana ora è di sicurezza si prende la forbice li ho tagliati troppo alti sei un prete, sei pretario bene un metro di cosa? di che? di che? di tubo? vuoi un metro di tubo? di filo? il metro? ok anche un tubiglio canna sticca metro del brico tre ore e cinquanta o due ore e cinquanta gli ultimi collegamenti del giorno questi nevano fanno schifo proprio si vede che pappazzia non so ancora non avete visto tutto presto uscirà l'altra parte riguardante l'impianto elettrico e tutto quello che è venuto dopo proprio adesso stiamo continuando a fare lavori e migliorie per appunto renderlo vivibile e accessibile fino a quando appunto non sarà aperto totalmente al pubblico e continuate a seguirmi per tutte le altre cose ci saranno anche altri video riguardanti l'attrezzatura nuova che ci è arrivata e piccole recensioni e test iscrivetevi lasciate un commento se volete qualcosa in particolare mettete mi piace se vi piace altrimenti potete neanche non mettere niente ci vediamo al prossimo video ciao ciao ciao